Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato all'unanimità Olga Tarsia nuovo presidente di sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Olga Tarsia, dal settembre 2013 fino ad oggi presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale Regino, ha ricoperto in 30 anni di carriera in magistratura numerosi incarichi. Dal 1987 al 1989 è stata giudice civile e penale all'Ocri. Dall'89 al 1994 ha svolto la funzione di giudice penale dibattimentale nello stesso tribunale, presso cui è stata anche coordinatrice fino all'anno 2000 dell'ufficio GIP-GUP. Dal 2000 al 2008 ha ricoperto l'incarico di presidente del Tribunale di Locri e in seguito è stata presidente della sezione penale dibattimentale. Prima dell'attuale incarico di presidente dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria, Olga Tarsia aveva presieduto la Corte d'Assise di Locri, che condannò gli autori dell'assassinio dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortunio, omicidio avvenuto nell'ottobre 2005.